Ben trovati gentili telespettatori a questo appuntamento niente male. Oggi in studio abbiamo Salvatore Conticello, professore ordinario di Otorino-Laringoiatria, Università di Torino. Grazie professore per essere venuto qui da noi per questo appuntamento. Parleremo di coronavirus. Certo professore, i nostri telespettatori si porranno la domanda qual è il nesso tra il coronavirus e il ruolo dell'Otorino-Laringoiatra. Lo vogliamo chiarire? Grazie dottoressa. Il perché di questa mia presunzione è legato alla mia professione e al piacere che ho avuto nell'esercizio della professione, all'orgoglio di questa disciplina. Il perché è estremamente semplice. I primi a morire per coronavirus sono stati gli otorino-laringologi e gli oculisti. I primi a dover accertare questa patologia sono gli otorini, grazie all'esecuzione del tampone che va perfettamente indirizzato, grazie alla visione endoscopica delle prime vie aeree, ma ancora grazie a sintomi che solo dopo alcune esperienze professionali hanno potuto far individuare che fra i sintomi prodromici di questa pandemia, della patologia da coronavirus, covid-19, ci sono due sintomi, mi riferisco all'iposmia e all'ipogeusia, se non addirittura anosmia e ageusia, che sono prodromici proprio della malattia. e per finire ritengo sia opportuno e utile, visto l'importanza che queste due sensorialità hanno nella vita di ognuno di noi, ridare una qualità della vita quanto mai efficiente, quanto mai ottimale, è opportuno e pertanto bisogna che siano, allorché questi sintomi perdurano dopo la fine della patologia, bisogna che ci siano delle cure adeguate, perché questi sensi ritornano a rispondere alle esigenze della qualità dell'uomo. Per quanto riguarda invece il problema, i dubbi che si stanno sollevando rispetto a questa pandemia, endemia, qual è il suo parere, professore? Ma veda, qualsiasi nuova patologia ovviamente pone dei problemi, certamente però noi non possiamo dimenticare quello che si è verificato nei secoli, nei millenni passati. Ricordiamoci che alcune conoscenze datano già al VII secolo, vi ricordate la palude di Sintalo, dove appunto grazie a quei corvi e alla loro defecazione si verificò la pestilenza e quindi si verificarono notevoli morti, ma poi un rapporto perfettamente, proprio anzi preciso, specifico, ce l'ho fatto uccidere, la guerra del Poleponneso che fece morire non meno del 25% della popolazione e determinò la sconfitta di Atene e diede anche, e qui vediamo anche alcuni aspetti politici, diede al successore nel governo di Atene la possibilità di dire al suo popolo che era opportuno cominciare ad espandersi, ad esempio facendoli progredire attraverso la navigazione. Ma questi sono dei esempi storici, ne abbiamo quanti ne vogliamo. Certo, anche la spagnola. La spagnola è l'ultima, ma c'è stata quella di Giustiniani nel 546, ma poi ad esempio non dimentichiamoci, oltre che da Tugidide, si è soliti passare ad esempio a Boccaccio che descrive come l'uomo non aveva più cura né del fratello, né del figlio, né della moglie, per cui ognuno pensava a se stesso e questo ci fa vedere la decadenza dei valori morali che queste pandemie comportano. Per passare, poi ce ne sono state tante altre, ma vi devo dire che non è solo, ci sono alcune altre patologie, alcune ad esempio non le conosciamo perché venivano dette pestilenze e perché all'epoca non c'era la possibilità di sapere qual era stata la gente che aveva provocato la patologia. Per arrivare, per dire ad esempio la guerra napoleonica, lì fu il tifo nel 1811, ma se lei si riferiva alla spagnola, intanto desidero precisare che questa è detta spagnola perché siccome la Spagna non partecipava alla guerra mondiale, i giornalisti ebbero la possibilità di poter fare le pubblicazioni, ma in effetti furono i soldati che venivano dall'America, da Boston in particolare, e quelli francesi in cui si sviluppò il tutto. E poi vedete, ognuna di queste pandemie, un altro fatto importante è il tempo e la durata che hanno. Sono due anni che siamo sottoposti che non è tanto dissimile dalle pandemie precedenti, perché noi dobbiamo partire da un concetto perché noi, o in questo caso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, parli di pandemia, è necessario che ci sia una nuova patologia che ha alcuni aspetti che la caratterizzano. Tra questi, ad esempio, non si conosce il germe nuovo, l'antigene nuovo. Secondo, l'organismo, non conoscendolo, non è immunizzato. Ma poi bisogna considerare anche altri fatti. La velocità del contagio, la rapidità dell'espansione, l'interessamento di diverse popolazioni, per non dire la globalità delle popolazioni. Lei citava la spagnola, ad esempio, gli ultimi aggiornamenti ci parlano di circa 400 milioni di soggetti contagiati, di circa 4 milioni e 200 vittime, però le stime parlano di circa 7-10 milioni. Quindi, come vedete, è un discorso assolutamente globale e questo ci fa capire perché noi non dobbiamo guardare solo a noi, ma dobbiamo guardare a tutto il mondo, anche nella possibilità di terapia, sia con il vaccino, sia con altri mezzi che vi stanno venendo. E a proposito di altri mezzi, professore, a proposito di quel particolare caso del medico che, ahimè, si è suicidato per via dell'ulteriore scelta, soluzione che potrebbe essere diciamo una strada da percorrere, il plasma, voglio dire, qual è il... Lei mi vuole portare un po' nel politichese... No, no, no. Ecco, le dico subito che è una terapia innovativa. certamente innovativa, ma le dico che... Cioè, il discorso, professore, è uno. Cioè, abbiamo avuto la rapidità di intercettare, tra virgolette, il vaccino. E non sembrano che... E questo è un vantaggio rispetto a tutti gli altri periodi. E poi, però, perché c'è la difficoltà di affrontare questo argomento sul plasma? Veda, la rapidità di poter avere il vaccino è stato legato a un fatto che c'è stata una notevole immissione di denaro per poter sviluppare appunto alcune tecnologie. questo sviluppo ha permesso di poter avere questi... i diversi vaccini. Ora, tutte le varie sperimentazioni, allorché non sono adeguatamente supportate, possono avere, ad esempio, quello a cui lei alludeva. la possibilità del plasma è certamente una delle strade non è la sola. Oggi giorno bisogna guardare agli anticorpi monoclonali che riescono certamente... Cioè, il vaccino è certamente il farmaco che ci sta permettendo veramente dei successi strepitosi non si può fare nessuna obiezione nell'utilizzo dei vaccini. Professore, la regia ha passato una slide dove si legge Global Temperatures e Annual Average. Cosa consiste questo grafico che lei ci ha portato? L'ho portato perché quando noi parliamo di pandemia veda il discorso deve essere quanto più largo non a caso Aristotele nel formulare la parola antropologo volle individuare tutte le discipline che cercano di aiutare l'uomo e per cui lei trova i virologi gli epidemiologi i medici ma deve trovare anche gli statistici deve trovare i climatologi deve trovare i politici ora ad esempio si è visto che notevole incidenze hanno avuto nel tempo alcune condizioni le variazioni climatiche ecco perché ho portato queste immagini e in alcune di questi fenomeni pandemici si sono avuti degli abbassamenti del clima poi alcuni valori che sono stati depressi alcune esasperazioni delle individualità umane per cui l'uomo non ha guardato più l'altro come un essere con cui condividere delle cose e il politico che deve immettere determinate forze poi ne ho portato un altro che riguarda non so se lo proietteranno la popolazione mondiale in cui questa è sempre legata al clima però praticamente lei dice che c'è un nesso tra il clima probabilmente anche il picco il clima le migrazioni scusi le guerre non dimentichiamo che alcune pandemie sono state dette anche febbre dei naviganti o febbre degli accampamenti proprio per dire le condizioni in cui i soggetti vivevano sono tutte scusate ho completato una vecchia ho allestito una vecchia tabella vedete appunto come la crescita della popolazione è variata nell'arco e come oggigiorno noi abbiamo una popolazione praticamente moltiplicata all'eccesso e di tutto questo noi dobbiamo tenere conto allora che viene abbiamo una problematica quale questo fenomeno tenete conto che questi fenomeni oggigiorno debbono essere guardati alla stessa strega con cui noi guardiamo una rivoluzione alla stessa strega con cui noi guardiamo un evento bellico ma secondo lei può essere dal momento che si passa da una pandemia ad una endemia quindi in un certo senso l'organismo cerca di adeguarsi di adattarsi come ha fatto con l'influenza ne abbiamo parlato proprio in questi giorni quando le ho proposto di venire in trasmissione e lei mi spiegava il discorso dell'influenza le dico subito che questi virus non fanno altro che modificarsi perché intanto hanno bisogno sempre di qualcuno che li fa campare e questo qualcuno siamo noi e si moltiplicano e ovviamente anche loro cercano di difendersi cercano di difendersi e variano ora se queste variazioni avvengono con una certa rapidità o noi abbiamo qualcosa per cui li possiamo arrestare o viceversa questi possono di nuovo per così dire come oggi viene detto determinare delle ondate e arriveremo alla quarta quinta ondata ma veda e questo dipende dalle possibilità che noi abbiamo di arrestarla grazie ai vaccini e ecco perché bisogna interessare la globalità delle persone lei però mi diceva praticamente un'evoluzione e qual è l'evoluzione l'evoluzione è quando la patologia pandemica diventa endemica endemica vuol dire trasformare un qualcosa che evolve in modo rapido e che non può essere contenuto perché la gente era sconosciuta o perché è variato molto rapidamente e da patologia acuta diventa patologia cronica e non solo non ha la diffusività che si verifica nel corso della pandemia sono tre le parole epidemia pandemia endemia quando è un discorso praticamente localizzato nel tempo e anche nello spazio e anche nel luogo in cui si verifica pandemia è l'interessamento di tutta la globalità tornando un attimo indietro alla domanda il ruolo che ha l'otorino la ringoiatra proprio per quanto riguarda le vie aeree superiori perché quando inseriscono il tampone per appunto constatare la presenza o meno del virus ma professore ieri mi diceva lei che si è cercato di capire la direzionalità che si deve dare questo scusi questo l'otorino lo sapeva da tempo la direzionalità è che deve andare lungo il pavimento delle fosse nasale e non verso l'alto e le dirò di più mi ha fatto molto piacere perché fu un mio specializzando proprio a scrivere sul giornale come all'inizio le linee guide non erano adeguate sotto questo aspetto ma per quanto riguarda l'otorino io desidero ricordarvi che quello che visitando deve essere a una minima distanza con l'operatore ma poi l'importanza l'importanza che ha nel risolvere quelle problematiche ad esempio fra le altre terapie oltre ad alcuni farmaci anche integratori a neurotrofici bisogna ricordare ad esempio che sono venuti fuori i cosiddetti smell training cioè gli allenatori dell'olfatto per cui ad esempio bisogna fare degli allenamenti giornalieri alle persone per poter riacquistare l'olfatto più e più volte con sostanze di odore particolare per stimolare per stimolare e per fare ricordare alla memoria questi odori che non ci sapevano il discorso si avvicina anche al gusto ricordate che devo ricordare che olfatto e gusto quando vanno male vanno male insieme quando si risolvono si aiutano l'uno con l'altro anche perché i centri compensano anche perché appunto il centro è nella circolazione frontale e il gusto è proprio l'avvicino quindi sono molto 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 vicini e tutto tutto questo e ritorno qui alla problematica è importante ma vedete non è solo questo il perché della professione il perché io oggi sono qua perché l'Otorino nell'ambito di queste patologie ha svolto e svolge un ruolo di notevole utilità e di notevole guida la società italiana ha fatto diversi studi sperimentali proprio per poter dare alcuni dati se si pensa che già nell'aprile un'indagine ha potuto constatare che già nell'aprile del 2020 517 o Torino sono stati affetti dalla patologia anche ovviamente se nessuno ha avuto bisogno di ricorrere alle terapie più estreme e valide in questa patologia e appare un'altra slide che ci ha fornito lei di cosa si tratta? questa slide empatizza ancora di più è una giornata questa al 2000 e fa vedere come appunto alla fine dell'ottocento si ebbero di queste notevole variazioni climatiche ma vuole anche documentare perché riguarda anche la popolazione vuole documentare come c'è stato un notevole incremento e in particolare in Europa e in quel periodo si verificò anche un migliore godimento della vita cioè una maggiore facilità verso quanto i popoli desideravano però tutto questo appunto portò al verificarsi alla fine poi anche di quello che successe per la spagnola perché ricordiamoci che si sviluppò nel 1918 ma perdurò per due anni e poi ebbe anche dei riflessi perché quando questi militari ritornarono alle loro case poteranno contagiare altri in un certo senso è un virus che ha più o meno la stessa io ho perduto due bisnonni con la spagnola professore ma questo questo virus che chiaramente è un discorso oggettivo però diventa soggettivo perché chiaramente le persone hanno una percezione del rischio se alterata e distorta può creare notevoli problemi dal punto di vista psicologico ora chiaramente io penso che sarà d'accordo con me nel momento in cui si deve avvisare l'utenza che bisogna sempre essere molto cauti nel selezionare le informazioni quindi rivolgersi sempre al medico di base allo specialista e anche alla ricerca di siti istituzionali importanti il ministero della salute e l'istituto superiore di sanità che è AIFA che comunque sanno dare forniscono i dati più precisi piuttosto che il tam tam dei social però professore comunque dilaga ancora a tutt'oggi nonostante il vaccino il dubbio se eventualmente di nuovo con una eventuale variante a ottobre a settembre l'Italia sarà di nuovo a porte chiuse lei cosa ne pensa? Penso che uno dei difetti dell'informazione è cercare di dare di fare intravedere questi pericoli chi si occupa chi fa informazione se cerca di dare una possibilità nella recidivanza deve darne le motivazioni ora tutto per grazia di Dio sta andando nel migliore dei modi le vaccinazioni e così via noi non abbiamo nessun motivo veda tutti quelli che fanno queste previsioni quante di queste previsioni si sono si sono verificate quante di queste previsioni negative sono state utili nell'incentivare l'uso di farmaci bisogna dire guardate per carità ognuno può essere curioso di andarsi a vedere quello che vuole ma il discorso principale è ovviamente di non cercare volutamente le fake news di colloquiare con persone responsabili che possono dire guarda questo è così e questo viceversa lo devi vedere in un altro modo veda ad esempio oggigiorno c'è la disputa sui green pass è una è una disputa che dal punto di vista medico non dovrebbe esistere perché il green pass è qualcosa che ci dice che aiuta l'uomo con l'uomo ovviamente è un discorso diverso dal punto di vista filosofico perché in effetti il green pass è un po' un ricattino per poter fare il vaccino ora ma tutto anche perché appunto c'è questa ma veda condizione di libertà o meno di fare il vaccino che poi alla fine comunque è abbastanza non sono discorsi solo di oggi ma sono anche discorsi vecchi ma di molto tempo fa in cui appunto dicevano come avere più fiducia in coloro che ci guidano come avere più fiducia l'uno con l'altro dovrebbe aiutare nel fare superare proprio questi fenomeni che certamente non sono produttivi per l'uomo bene siamo un po' al rush finale un consiglio che da diciamo esperto vuole dare ai nostri telespettatori soprattutto in questo periodo così intenso siamo in piena estate c'è molto caldo la gente tende a togliere la mascherina anche nei luoghi dove dovrebbe essere tecnicamente indossata per chiudere professore cosa vuole dire ai nostri telespettatori vaccinatevi è la migliore arma che noi abbiamo ovviamente fate tutto con attenzione e ricordatevi che la libertà di ognuno di noi è una libertà che ha dei limiti che sono quelli di non calpestare quella degli altri pertanto sia che crediate sia che non crediate nel vaccino proprio per spirito di solidarietà umana vaccinatevi le vaccinazioni dopo la legge Crispi sull'igiene introdotta in Italia nel 1888 sono stati fatti notevoli progressi anche Benedetto Croce nella storia d'Italia descrisse proprio i progressi in ordine medici che erano stati fatti in Italia ora considerateli progressi e pertanto considerando i progressi date esempi di solidarietà nell'utilizzo e nell'aiuto che fornite oltre che a voi a tutti i vostri simili oltre che ai parenti ai congiunti agli amici alla popolazione del mondo bene professore con questo principio di solidarietà e soprattutto principio di responsabilità noi la ringraziamo per essere stato qui con noi in studio per averci dato questa visione così olistica e ampia del coronavirus e di tutto quello che appartiene agli aspetti dell'evoluzione del virus e ringrazio i nostri telespettatori sperando che questa puntata sia stata ulteriormente illuminante e noi ci rivediamo la prossima puntata con niente male grazie professore grazie a lei grazie a questa televisione che mi ha dato l'opportunità sempre di portare in alto l'otorino e la ringoiatria grazie professore è un orgoglio che che ho da sempre condiviso e che cerco di portare avanti grazie ancora gentili despertatori alla prossima arrivederci grazie a tutti